Solo pochi ingredienti per ottenere un dessert fresco, gustoso e leggero. Lo preparate in poco tempo. In una ciotola lavorate lo yogurt greco assieme a due cucchiaini di miele. Mescolate bene fino ad ottenere una bella cremina omogenea. Rivestite con della carta forno un piatto o una teglia. Versateci sopra lo yogurt greco con il miele. Stendetelo bene aiutandovi con una spatola o con un cucchiaino. Dovrà avere lo spessore di circa un centimetro. Lavate poi la frutta che avete scelto di usare e distribuitela sopra lo yogurt greco. Io ho aggiunto fragole, lamponi e tanti e tanti mertilli. E comunque potete usare la frutta che più vi piace. Aggiungete una spolverata di granella di pistacchio. E poi mettete il congelatore per almeno due ore. Quando sarà bello solido, tiratelo fuori dal congelatore e spezzatelo con le mani. Buonissimo! Lascia un like e seguimi per altre ricette.